Questo è un video in cui siamo a Sciacca, come vedete c'è un vento terribile Sono stanca Oggi vi facciamo vedere Un vlog Un video vlog C'è il mio cugino che rompe Vi faccio vedere tutta la perspettiva, le pulmon, le gane Ok? Allora noi siamo in palo Ci vediamo fra un po' Cosa per pulmon e vi spieghiamo un po' tutto Aveteci un frattempo di cane, comunque non è tale Ciao, ciao Vi facciamo vedere Vi stiamo dentro il bar Di Sciacca Ci sono delle persone che ci guardano a Sciacca Però vabbè Noi alla fine vogliamo Questo è il bar di vado Quindi vi faccio vedere il pulmon e poi ci vediamo fra un po' Ok siamo stati qui nel pulmon Qua due minuti partiamo E quando cominciamo a partire vi spieghiamo un po' quello che dobbiamo fare a Sciacca Quindi vado in mano Ciao papà Ok siamo nel pulmon Come potete vedere stiamo per arrivare Abbiamo fatto un po' degli acquisti Sì la ho comprato delle patatine strane Delle cionga Delle gomme Delle bombolette Le bombolette che vi vorrei fare a vedere Però sono di là Quindi mi sa cazzarmi perché poi c'è quello che sta a fare E poi vedete che il video si muove Cioè È perché stiamo camminando Come potete vedere ci sono un sacco di persone Quindi cioè Siamo un bel po' Ah e della nostra famiglia siamo giusto 24 E tutte le altre famiglie sono 4, 3, 5 Quindi sono un bel po' E allora ora vi vorremmo spiegare un po' tutto il tragitto che faremo Allora quando arriveremo a Sciacca Andremo al ristorante Spiega un po' Mangeremo Allora vi faremo il video di che cosa mangeremo E dove saremo Come si chiama il ristorante E Cominci a parlare invece di questo vlog In questo viaggio Perché non parliamo più nel nostro canale Ah ok Allora noi vorremmo farci un canale nuovo Non siamo più fantasisti E infatti questo video non andrà nel canale fantasisti Ma andrà In un canale che si chiama Cioè cosa vuol dire ci si vende? Allora noi non sappiamo come chiamarlo Quindi se ci potete dare un aiuto Ce lo scrivete nei commenti O in qualche cosa Comunque ora vi spiegheremo un po' la giornata Come abbiamo già detto andremo al ristorante Vi diremo un po' le cose Poi andremo Nel pomeriggio tardi Andremo Nel Al carnevale di Shaka E noi faremo molto bello Faremo Io non ci sono mai andata È la prima volta per me Faremo la guerra Delle schiume Dei coriandoli Di queste cose Che noi ci faremo il video vlog Vi faremo vedere come lo facciamo Come abbiamo già detto prima C'è la Asamuka Nella Shaka Scusate Nella Asamuka C'è un momento terribile L'avete visto? Sì vi ho almeno fatto vedere Come potete capire E se nel ristorante Tipo ci sarebbero giochi O c'è il del prato Se sentite Voi ci sono Vi fatti caso Il prato Delle cose Vabbè Comunque Lo giocheremo Vi faremo vedere Non è che vi faremo il video Solo dove mangieremo di qua Faremo anche un po' Cose più carine Quindi ora io vi lascio Un minuto In sospeso Quando arrivi un bacio Allora Il video si stopperà Si riavvila Riavvila Vabbè che è interessante Si riavvierà dopo Quando arriveremo al ristorante Caso me fra un po' Cosenteremo qualcosa da dire Ve lo diremo Se ci viene qualcosa in mente Comunque mando un bacio Se penseremo Come chiameremo il canale Ve lo diremo subitone Ci vediamo Fra un po' Ciao Ciao Ok Ok Io ho rimesso il video Perché ancora non avevo pensato Il nome Però volevo farvi vedere Il tempo Che brutto Io mi cerco sempre Le giornate più schifose Guardate Parla col tempo È sempre divertente Esatto Cioè Noi ci divertiamo di più Perché tipo Con la pioggia La schiuma I coriandri Tipo È più figo 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 Guardate qua Qua c'è tutto il prato Tutte le colline Le colline Le montagne E poi eccetera Noi penseremo al canale Sentiamo la prossima Che già siamo a tre minuti Io credo che abbiamo trovato Proprio il nome Perché l'ha inventato lui Però Ma non comincio tanto Però Provare per credere Si chiamerà Imates 580 Io non capisco il significato di Imates Cioè ha fatto tutte le cose lui Io non capisco Lui è inventato Imates 580 Noi siamo arrivati al ristorante ragazzi Ma qua c'è lo dilumio universale Io vi posso vedere un po' la piove Ma ci si vede però Sono venuta a dire Piove da morire Cioè Cioè è un brutto tempo Cassa male quando usciremo La piove Non è buona Non è buona Non so Prova a fare un po' la piove Non si vede Vabbè comunque Ci vediamo fra un poco Che stiamo arrivando E noi penseremo ancora Perché Aspettate Quindi Non so di che cosa parlare Ci sentiamo fra un fuori ragazzi Perché io sto marendo Tipo Mi sei bloccato il telefono Mi sei bloccato il telefono Attimo Non ritorno Vincenzo perché ti uccido Ragazzi Stavo Aspetta Un attimo ragazzi Perché qua c'è un problema serio Se non riesco a stappare il video Un attimo Vincenzo Ragazzi aspettate un secondo Zumba avanti e indietro Zumba avanti e indietro Zumba avanti e indietro Ragazzi un secondo Vabbè dai Scusate per quella cosa Poi la taglieremo Quindi Vabbè Lasciremo Per fare un po' il video Infatti Perché Siamo proprio un po' Beh ragazzi Siamo proprio per arrivare A Sambuca di Sicilia E ora noi Stiamo scendendo La pulmona Quindi Quando siamo giù E Vi faremo Vedere un po' Di là E di qua Dopo Scenderemo da Sambuca Nel pulmona Nel pulmono Ci lasceranno Ok Scusate un po' Ciao Vi rompo su in queste cose Lì per dirvi Che aspettiamo La pulmona E poi scendiamo Quindi ci vediamo Tra un po' Ok ragazzi Siamo scenditi dal pulmona Siamo andando a vigilare La Sambuca Di Sicilia C'è molto freddo Come se stessi C'è la galleria Ci vediamo Tra un po' Scusate se Prima mi hanno stoppato Subito Ma dobbiamo andare A camminare Quindi ci vediamo Tra un po' Ciao Ragazzi Dovete vedere qua Come sono le case Sono tutti a via Pavoloso Vediamo qua Guardate che figo Qua Molto grazioso E vabbè Ci vediamo fra un po' Ciao Noi stiamo aspettando Un altro pulmona Infatti siamo iniziati qua A questa via Quindi guardate qui Un po' Com'è Ora stiamo andando A ristorante Quindi ci sentiamo Fra un po' Ho stoppato Perché c'era mio cugino Il piccolino Quindi ora vi parlo Di un po' Di qua Beh le firme Che sono un gran chè Però si può fare Sono fatte così Quindi Stiamo aspettando il pulmona Per andare a ristorante Ci vediamo A ristorante Ciao Ok stiamo facendo Una riscita stranissima Sto correndo Perché sta fiumendo È una riscita Molto strana Sono con lui Le mura qua Sono fatte un po' Così Da terra È una cosa Che non ho mai visto Perché da me in Sicilia Non è che sono così Noi abitiamo a Palermo Ci sono persone che tipo Abitano a Catania Roma Inghilterra Soprattutto America La mia Cosa è più bella Comunque ragazzi Vi voglio farvi vedere una cosa Cioè Guardate questa porta Che io scena Che io scena Allora ragazzi Le porte sono così Ora vi spiego il video Vi sto spiego il video Ma stavolta Mi dispiace Sto spiego sempre il video Però dobbiamo andare al ristorante Dobbiamo seguire il pulmona E quindi ci vediamo All'interno Vi stiamo andando a ristorante Va bene Ognunque stiamo arrivando Alla cosa più bella Ci vediamo tra un po' Ciao ciao Ok Siamo al prossimo Il tragitto Vedete quale cose Sono per pizze Siamo arrivati Non so dove Dobbiamo vedere Altro due chiese E poi Riperemo al ristorante Noi stiamo andando Per una chiesa Quindi non vi lascio vedere Perché non lo chierete Quindi Noi stiamo camminando E avete visto Qua La strada è fatta tutta così Anzi Ora stiamo amicurando Quindi Come vedete qua È un lungo Togito Quindi ci vediamo Fra un poco A ristorante Ciao Salute Ciao